Avada che davana, Faiz! L'ho visto esplodere, perché dobbiamo cercare di distruggerlo più volte possibile, utilizzando tutta la vera potenza delle mod. Quindi utilizziamo la Ultimate Cross-Fatting insieme alla Ascended Upgrades, che decisamente ci dà molto una mano. Proviamo quindi con un proiettel incamiciato per fargli ancora più danni. Più veloce, semi-automatico, vai. Tra poco dovrebbe iniziare ad andare su molto velocemente. 1300, 3000. Io vorrei, visto che mi fa tanti soldi, mettere anche così. Dovrebbe darmi anche più soldi magari ogni volta che ha scoppiato? Mettro qui dei pneumatico, così che dovrebbe darmi più soldi. Questo, trince mob, cecchino d'elite, mob a zoppato. E gli andiamo, guarda, guarda, dobbiamo aumentargli. Vai con calma. Vai sul primo, sempre sul primo. Aumenta abbastanza la velocità d'attacco anche. Ok, mi serve che mi aumenti la velocità d'attacco. E se provo a fare anche un raccoglitore qua, che si fa in automatico, ti metto anche questo qua per farmi più soldi. Quanti soldi mi fai? Già 18.000. Non è male. Diamo gliene un pochino di soldini qua. E ok. Dovrebbe arrivarne a farcene un po' di più. Aumentiamo qua. Aumenta la perforazione. Mi serve la perforazione un po' più seria. Grazie. Aumenta anche la velocità d'attacco. Mettiamogli anche un alchemista, perché non gli fa male. Dobbiamo mettere anche difesa nazionale, per dargli l'abilità di distruzione. E visto che c'era anche il sottomarino che era molto buono a distruggere le torri, gli metterei semplicemente un po' per ripulire anche un po' gli altri. E vai, 400.000 per un livello 100 del sottomarino. E adesso bisogna praticamente riuscire a aumentargli tantissimi danni al cecchino. Il lag, il lag è forte. Vediamo solo quindi potenziamento fino a 39. E abbiamo la possibilità di aumentarla ancora molto di più. Per 100, 120. Ma spendiamo tutti i soldi e vediamo poi quanto ci arriviamo. Siamo a 160, 169. Nella scorsa partita, con quello moddato strong senza mod assurde come la scenda di upgrades, eravamo arrivati a un 220. Quindi ci sarebbe la possibilità di portarlo a livelli... Sicuramente siamo già a metà strada e siamo già a 180. Però so che i danni di phase aumentano molto velocemente. Settimento su forte, però un attimino. E facciamo i danni direttamente a phase. Vediamo che fa in alto, fa circa sui 4 milioni di danno a colpo, anche se spara molto velocemente. Però ogni volta che si è a ragione al gioco siamo a 4 miliardi di danni. Voglio vedere se aumentando tantissimi danni si riuscirebbe a prendere gli scatti un po' più grandi. Mi sembrano sempre pissi sui... No, siamo sui 6 miliardi adesso, eh. Quindi aumentare gli danni gli sta facendo portare molto di più. Poi c'è anche Sottomarino che ci sta lavorando a fermare tutto quanto, che era quello che pensavo appunto per ripulire, perché comunque era molto potente. Prendi i soldi, incredibile. Ok, inizia ad esserci un po' troppo lag. Rimettiamolo sul primo. Voglio che distrugga i bed in modo veloce. Perché ogni volta che viene fatta una fase vengono liberati dei dirigibili nuovi. E quindi si stanno accumulando tantissimi dirigibili che bisogna iniziare a farli fuori. Riportarli tutti all'inizio così che ci sia meno lag. Siamo tornati ai 4 milioni di danni, però non lo sta mica colpendo direttamente. Quindi con le schegge secondarie. Un D-Pace per essere distrutto deve aver fatto 116 milioni di danni. Ok, sta andando anche abbastanza velocemente. Siamo a una velocità per 5. Per velocità per 5 sembra che ci stiamo più o meno dietro. Vediamo qua il vivaio quanti soldi ha fatto. Ah, 2 miliardi e 7. Non è affatto male. Ok, siamo al 220, quindi è lo stesso punto in cui abbiamo perso contro i campioni, più o meno. Il gioco era crashato, però fa lo stesso. Non è stata utilizzata... No, non ho utilizzato l'abilità del sottomarino. Mai, evidentemente, finora. Quindi la attiviamo. Fa il sottomarino. Ora che il sottomarino non attacca, sembra che vada avanti molto più velocemente. Sembra che adesso i palloncini siano finiti da... Quelli da recuperare. E abbiamo quanti soldi? Ma è che possiamo fare... Con tutti quei soldi facciamo tipo 10 livelli. No, 15 livelli tipo. In più. Siamo a 205 di potenza d'attacco del cecchino. 208 attualmente. 230. Riusciamo a distruggere anche abbastanza velocemente. Non ci vuole tantissimo. Ogni qualche secondo distruggiamo tutto. E come stiamo vedendo qua anche i dirigibili non fanno mica tantissima strada. Chissà quanta vita ha un bad di quello. Non voglio neanche saperlo. Diamogli questi altri 5 livelli. In realtà dobbiamo continuare a starci dietro con l'aumento di vita che hanno i dirigibili, perché stanno aumentando anche loro sicuramente la vita. E anche questi qua. Siamo a 421 milioni di danni da fare. Però corre molto velocemente. Fortunatamente il lag è totalmente terminato. Quindi il lag è maggiore quando ci sono i bad. Poi quando scompare, no, va bene. Diamo quanti danni ha fatto qua il sommargibile. 800 milioni. E qua invece 13 miliardi. Tipo 15 volte in più. Si vede quando una torre è rotta. Abbiamo a 243 volte distrutto il phase. È stranissimo però perché il party della bed della festa lo avevamo distrutto 1500 volte, mentre questo qua non riusciamo mica a distruggerlo così tante volte. Per la fine probabilmente riusciremo a distruggerlo 300, 350 volte, non di più. Beh, finché si va avanti così senza troppo lag, si fa avanti facile, facile. Magari un'altra torre leggermente migliore potrebbe essere la fabbrica di Akulei, però non lo so. Però facciamo anche così. Posso aumentargli di più. Ha già fatto un milione. Ogni tic ha fatto un milione. Non so se aumentargli di più la perforazione. Gli aumento di più la perforazione, ossia ogni pila, ogni puntina quante spine c'ha. Potrebbe essere molto meglio. Poi i danni non è che si possono aumentare tantissimo, però finiti i soldi. Il mio problema sono semplicemente le esplosioni. Se me lo mettesse sempre sopra sarebbe bene. Fai anche blucio d'attacco un po' maggiore, grazie. Però no. No, fa troppo lag. Bello, 41 milioni però fa troppo lag. Adios. Di soldi adesso che abbiamo riguadagnato nuovamente. Lo riprende il cecchino. Andiamo a distruggere un'altra volta così che tutte le spine a terra spariscono. Ok, adesso dovrebbe essere tutto molto più tranquillo. Vorrei riprovare, anche a qua il centro, il boomerang. Guarda adesso come si muove veloce. Assassino il... Signora dei glaive. Qui pochini danni. Non abbiamo i soldi per farlo. Dai, su. Dominus, vai. Con i tuoi glaive che ti girano intorno. Potremmo fare accessibilità adesso. Allora, ci sono il cecchino che fa questo raggio della morte di Skidge. Quello sì. Poi esplode in tutte le direzioni. I glaive qui ci stanno provando. Non fa tantissimi danni, non state se di livello 100. Vediamo qua che ne fa sui 10.000 al colpo. 100 milioni a botta. Mentre qui siamo sui 100.000, 200.000 al secondo. Non riusciamo neanche quindi arrivare neanche al 300 come immaginavo. Molti meno danni rispetto a quelli che mi aspettavo. Però abbiamo altri soldi qua da potenziare la forza. E continueremo a potenziare la forza. Avrei avuto due di queste qua che mi producevano 400 milioni fino adesso non sarebbe affatto stato male. Avrei avuto molte più potenzialmente da potergli dare. Ma se tu invece mi colpisci sempre il Pace, viscimi sempre il Pace e vediamo di distruggerlo molto velocemente. Gli altri dovrebbero forse ipoteticamente riuscire a distruggere tutto il resto. Molto lentamente. Siamo qua appena adesso a un miliardo di danni. Vai, potenziamo ancora un po' un altro paio di livelli. 47 miliardi di danni qua al cecchino. Vai, 126, un altro potenziamento. Poi velocità d'attacco e perforazione credo che attualmente non gli faccia più niente. Siamo sfortunati che il... L'ho visto esplodere. L'ho visto esplodere. Siamo a 267. Zero di 10.000. E il boss non c'è più. Che significa? Significa che l'abbiamo rotto al 267. Fantastico, quindi 267 è livello massimo. E bisogna, per farlo, bisogna fare 47 miliardi di danni. La sconfiggi e la rompi. Questo è il sulto. Ma voglio vedere se è semplicemente stato un caso oppure effettivamente è stato fatto così. Quindi, con la mod che aumenta i danni e gli aumentiamo ai danni a più 100.000, va bene? Così che lo facciamo in fretta. 100.000. Tanta roba. Ne facciamo una nuova. La posso provare a quindi mettere la fabbrica di aculei con pile più grandi. 100.000 di danni ad aculeo. Ogni volta che lo butta giù. Ogni volta che lo colpisce lo fa. Non è semplicemente però riuscire a farli. Quindi, il problema è la perforazione. Tempestria di aculei. Recuperiamo. No, abbiamo grossi danni, grossi difficoltà. Tempestria di aculei. Ne accuminate. Ok, l'abilità. Capito di aculei, super mine. Vai. E aumentiamogli, tipo, la velocità d'attacco. Mamma mia. Non so cosa sta succedendo. Però qua i danni ne fa troppi. 250 di già. E. 265. E il phase, vediamolo qua, che sta esplodendo. La fabbrica di aculei. Avete capito quanto potente è? Ha già fatto 42 miliardi di danni. In 0 secondi. E abbiamo creato 267 palloncini. E mob fortificati. Bello. Rotto totalmente. Sapevo che era così potente, ma non così... Vabbè, sì, effettivamente l'abbiamo moltiplicato i danni per 100.000. Me ne stavo per un attimo dimenticando, scusate. In pochissimo tempo siamo riusciti a distruggere tutto quanto. Abbiamo perso anche qualche vita. Un'onestadissima qualche vita. Durata un minuto, sta partita. Rientrare, succede qualcosa. C'è di nuovo. Sparito totalmente. Mi crasha. Rimane qua che è qui. È iniziata una partita normalissima. Neanche l'attacco. Neanche la vita che c'è di phase. Perfetto, direi. Ma con il party della festa, invece. Avevamo fatto 1567. Come mai eravamo riusciti a fare così tanto? E qui, invece, no? Ok, siamo già a 62. Perché i danni aumentati sono molto meno. Aumento un po' più la velocità d'attacco. Vediamo, siamo già a 500 di vita. Però sta rallentando tantissimo. Sta rallentando tantissimo. Più perforazione. Più velocità d'attacco. 500 milioni e si è rotto tutto. A 585 il gioco si è rotto. Perfetto. Ah, se ne ha dato danni negativi. A 585. E quindi si è rotto il gioco. Perché la scorsa volta me ne siamo arrivati a 1000? Forse non è più riproducibile. No, non lo so. Comunque il gioco si è rotto, però lo stesso era semplicemente un piccolo bo. E grazie a tutti per la visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.